Io partirei da uno dei nostri associati più importanti, l'amministratore delegato del gruppo SMET, Domenico De Rosa. Prima di rivolgerle la mia domanda, io le voglio rivolgere i miei complimenti, perché pensate che il Presidente della Repubblica ha recentemente voluto conferire al Dottor De Rosa la carica di Cavaliere della Repubblica. Quindi un applauso a Domenico De Rosa per questo prestigioso riconoscimento. Noi ci siamo lasciati alle Texpo qualche mese fa, la fiera più importante d'Italia per lo sviluppo sostenibile e in quell'occasione abbiamo avuto modo di dibattere soprattutto su quello che sta avvenendo in Europa ed è per questo io vorrei in qualche modo dare un po' di ritmo alla nostra chiacchierata volando verso Bruxelles. Lei a LetExpo si era detto leggermente scettico rispetto all'approccio della Commissione europea circa i target di sostenibilità che come sappiamo sono troppo rigidi per le imprese del trasporto e della logistica. Ora alla vigilia di una tornata elettorale importantissima a livello europeo, quali sono adesso a due mesi di distanza gli auspici per la prossima legislatura europea? Per lei che è a capo di un'azienda che oggettivamente è leader nel settore del trasporto sostenibile? Innanzitutto grazie dell'invito e devo dire la verità quando lei dirige i panel lo fa sempre con un condimento particolare. Il tema che mi pone è un tema importante, poco prima ho parlato con i responsabili del mercato Italia proprio di Mercedes i quali mi domandavano espressamente cosa io ne pensassi del prodotto elettrico che loro stanno fortemente spingendo sul mercato e dove stanno vedendo molta diciamo recettibilità da parte del mercato secondo loro e chiedevano a me perché io fossi contrario leggendo quello che io dichiaro da tempo ormai e ho espresso loro un concetto molto semplice. Da imprenditore e credo da imprenditore illuminato non sono mai contro qualcuno o contro qualcosa e in particolare non sono contro l'elettrico. certamente non posso accettare per la mia cultura liberale che una commissione europea per decreto metta fuori gioco tutte le tecnologie alternative che possono accompagnarci verso un mondo decarbonizzato e sostenibile. Vengo a dire la commissione europea in questi cinque anni ha dimostrato in maniera plastica di lavorare per un'ideologia e non per un obiettivo. L'auspicio quindi è che il Parlamento sia rinnovato con una maggiore spinta liberale e che tenda agli obiettivi che non siano di taratura ideologica ma piuttosto sostanzialmente sostenibili non solo per l'ambiente ma anche per la cultura industriale del nostro continente e della nostra Italia. Io sono contro qualunque cosa vada nella direzione di mettere fuori gioco delle tecnologie come quelle del diesel con il biodiesel HVO contro quelle i motori endotermici a biogas che dimostrano numeri alla mano di poterci accompagnare verso una necessaria transizione energetica. Grazie dottor De Rosa, rimango un attimo con lei perché c'è una cosa che mi incuriosisce molto. I padri del diritto dicono a volte l'Unione Europea è come un elefante con i piedi d'argilla cioè un pachiderma che oggettivamente fatica ad andare avanti però non crede che anche gli imprenditori debbano avere una visione globale non regionale cioè l'elettrico di fatto è una sperimentazione una tecnologia che si sta sperimentando in tutto il mondo e probabilmente apporta anche dei benefici. È d'accordo o no? Ma guardi innanzitutto quando parliamo di elettrico non parliamo di una innovazione perché il motore elettrico è un motore che noi conoscevamo già molto tempo prima del motore endotermico. L'endotermico è una conquista quello sì dell'evoluzione della tecnica. Oggi è una moda e credo che come tutte le mode abbiano dei seguaci e abbiano degli osservatori. Io credo e qui posso dire concluso il mio intervento che il mercato saprà dirci quale sarà la strada per cui se De Rosa ha sbagliato è perché il mercato avrà detto che è sbagliato. Vedremo tutti i camion elettrici e il gruppo Smet e tutte le sue aziende avranno camion elettrici. Diversamente andremo a biodiesel e a biogas e anche ad elettrico. Avremo un panel di diverse tecnologie da applicare.